Comprende alberi di pero, melo, pesco, susino, albicocco, mandorlo e ciliegio, affencati da un olivo e un melograno. Sono stati seminati inoltre due tipi di orto, uno aromatico di erbe officinali, tra cui menta, finocchio, salvia, timo ed erba cipollina, ed un altro invece alimentare, con vari generi di ortaggi. Fanno tutti parte del frutteto denominato Dei Ricordi, piantato ieri mattina nel giardino della struttura di accoglienza per anziani Don Paolo Tonucci, in zona San Lazzaro. Questo è un progetto finanziato dal Ministero delle Politiche Sociali, a cui hanno partecipato associazioni volontariate, in particolare l'Auser e l'Afma. L'obiettivo è fondamentalmente quello di favorire l'invecchiamento attivo, e quindi favorendo la parte attiva fisica e l'impegno mentale e intellettuale degli anziani, focalizzando poi il problema nel rapporto intergenerazionale. Infatti il progetto prevede il coinvolgimento delle scuole che qui sono presenti come maestre mie venerine. La popolazione europea infatti sta invecchiando rapidamente, a causa dei bassi tassi di nascita e della crescente aspettativa di vita. In Italia oggi oltre un quinto della popolazione è oltre a 65enne, solo nelle Marche se ne contano ben 400.000. C'è inoltre una speranza di vita media di 83 anni. Le proiezioni dell'Istat prevedono un aumento esponenziale nei prossimi 20 anni, fino ad arrivare a 100.000 soggetti in più per tale fascia di età. Di pari passo aumenterà anche il carico sociale e sanitario legato all'invecchiamento e alla non autosufficienza e l'Alzheimer sarà la malattia più invalidante in una prospettiva temporale. Ecco perché diventa sempre più importante invecchiare bene. In questo contesto dunque si inserisce il progetto con il fine di promuovere una cultura positiva dell'invecchiamento attivo e del valore di scambio intergenerazionale. Ci sono già altri progetti in programma? Sì, dopo questa giornata abbiamo il 31 di maggio sempre qui al Don Tonucci e poi l'8 di maggio, quindi dopo la pausa pasquale, al centro di Urno Margherita. La giornata di oggi doveva prevedere anche la partecipazione della scuola materna poi poi del comune di Pesaro. C'è un gemellaggio tra gli assessorati alle politiche dei servizi educativi. Purtroppo per un problema di trasporto loro sono riusciti ad essere presenti e quindi ribisseremo la giornata. Abbiamo lasciato qualche altro albero e delle piantine ufficinali e aromatiche che piantumeremo poi il 31 di marzo sempre qui, in questa struttura. Purtroppo per un'altra struttura